Se state avendo problemi di crash su FIFA 25 è possibile risolvere il problema aggiornando i driver della scheda video sia Nvidia che AMD e rimuovendo così l'ottimizzazione schermo intero sulla sua applicazione perché il problema può essere sempre lo schermo intero quindi quando giochi a FIFA non giocare mai a schermo intero ok quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato così il link che ti porterà sulla pagina per scaricare il software AMD che ti permetterà di aggiornare i driver della tua scheda grafica AMD e poi c'è quello di Nvidia ovviamente ti farò vedere solo come configurare quello su Nvidia perché su AMD il mio sistema non lo sopporta perché non ho una scheda grafica AMD quindi devi scaricare e installare il software per Nvidia invece se vado un attimo a prendere il programma, l'applicazione ed eccolo qua vado su driver e qua risolvi tutti i tuoi problemi aggiornando i driver della tua scheda grafica io non ho mai problemi di crash, problemi di directx, problemi di lag e cose così perché aggiorno sempre la mia scheda grafica e mi prendo sempre cura driver studio e drive game ready cerchi sempre gli aggiornamenti da fare e lo installi una volta installato devi riavviare il computer i crash sui giochi dipendono sempre da driver obsoleti sulla scheda grafica oppure problemi riguardo allo schermo intero che non si abbina molto bene alla risoluzione sul monitor quindi se vai un attimo sul pannello di controllo qua sotto tasto destro sul pannello di controllo di Nvidia ti ho lasciato pure quello in descrizione su questo è possibile modificare le impostazioni di schermo se vai su modifica della risoluzione velocità di aggiornamento io ho impostato questa impostazione colore Nvidia e poi abbiamo impostazione del G-Sync se supporti così il G-Sync o il FreeSync abilita così questa modalità e poi abbiamo regola dimensioni e posizioni del desktop io l'ho applicato sul schermo intero per non avere sempre problemi riguardo che non si abbina alle proporzioni giuste sul monitor quindi in questo caso il gioco lo puoi vedere tipo zoomato oppure tutto schermo nero quindi non si abbina molto bene sul tuo monitor e possono essere questi i problemi al crash se invece riscontri crash riguardo al DirectX ci ho fatto un tutorial sopra il DirectX ed eccolo qua e puoi scaricare installare e risolvere i tuoi problemi al DirectX su 9, 10, 11 e problemi riguardo all'audio quindi scarichi così DirectX clicchiamo sul setup accettiamo il contratto non installate questo fai avanti e installi così il software se no abbiamo quelli di Windows per Microsoft quindi più recenti download supportati dal 2015 fino al 2022 questi qua sono i due driver da scaricare e installare e ovviamente non me li fai installare perché li tengo già installati e quindi mi dirà ripristina una volta scaricati e installati devi riavviare il computer e basta se invece riscontri altri problemi ti ho lasciato in alto a destra nelle schede altri video su FIFA DirectX Air o Black Screen altri problemi che non si avvia quindi ti consiglio di guardare quelli se hai problemi commenta sotto al video fammelo sapere se hai risolto e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao